Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati. Parliamo di Draxler, di Julian Draxler, giocatore del Paris Saint Germain nazionale tedesco classe 93 che a fine di questa stagione potrebbe lasciare il Paris Saint Germain. Dico potrebbe perché ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021. E' un centrorampista offensivo, un trequartista, un giocatore abile a svariare su tutta la trequarti, un giocatore di fisico anche 1,87 e ha grandi qualità. E' un giocatore che al Paris Saint Germain complice anche il talento nel reparto offensivo non trova particolare spazio. Quest'anno nella stagione 2021 Ligana ha totalizzato solamente 9 partite andando a segno con due reti e fornendo un assist. E' partito il 29% delle partite totali titolare e ha partecipato al 7% ai gol. Ricordiamoci che il Paris Saint Germain nella stagione 2016 e 2017 ha speso per lui ben 36 milioni di euro per prelevarlo dal Vosburg. E' un giocatore di talento, un giocatore che potrebbe rappresentare un'occasione di calcio mercato. Ricordiamo che è un giocatore nazionale tedesco, un giocatore che ha una valutazione intorno ai 24 milioni di euro e l'ipotetico modulo di Stefano Pioli nel 4-2-3-1 potrebbe prendere il posto di Brahim Diaz. Quindi potrebbe alternarsi con Ciaranoglu come sottopunta, come trequartista centrale dietro all'unica punta che sarà Zlatan Ibrahimovic. E' un'occasione di calcio mercato, è un giocatore interessante, un giocatore che è già stato molto vicino a venire a giocare in Italia, il Stocco è stato varie volte alla Juventus. E per il modulo che il Milan utilizza, per il modo di giocare del Milan, per l'importanza del fulcro del gioco e del trequartista centrale nello schema di Pioli, potrebbe rappresentare un'opportunità di calcio mercato. Ricordiamoci che il Milan in questo ruolo attualmente ha Ciaranoglu e Brahim Diaz. Brahim Diaz che secondo mie indiscrezioni non dovrebbe restare il rosso-nero anche la prossima stagione. E' un giocatore di talento, Brahim Diaz, però in questo momento per il Milan non è una priorità. Siccome la Real Madrid lo valuta 20 milioni di euro, il Milan potrebbe investire questa cifra su un calciatore a costo zero, Julian Drax, che sicuramente potrà chiedere un ingaggio importante sui 4-4,5 stagione, però ricordiamoci che viene a zero. E' un giocatore dal grande, grande talento. E' un giocatore che nella nazionale ha sempre rappresentato un profilo negli anni scorsi di assoluto, assoluto livello. Nella sua carriera Julian Draxler ha realizzato 422 partite andando a segno 85 volte e fornendo 81 assist. Cosa si denota da questo? Che è un giocatore che comunque vede la porta, ogni 5 partite segna una rete ed è un giocatore che fornisce anche tanti tanti assist. E questo potrebbe essere un fattore da considerare per una squadra come il Milan, che gioca un calcio progressista, così lo definisce Gazzidi, su un calcio moderno, un calcio offensivo. Ecco, il Milan ha bisogno di giocatori di numeri 10, di talento, perché le partite, man mano che il Milan diventerà sempre più competitivo, le squadre avversarie incominceranno a chiudersi, a chiudersi sempre di più. E quindi serve la capacità, la fantasia dei trequartisti, dei numeri 10 e Julian Draxler sicuramente potrebbe essere un profilo da Milan. Non so cosa ne pensate voi di questo ragazzo, di questo nazionale tedesco. Fatemelo sapere nei commenti al video. Come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo e iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera. Ciao a tutti e Forza Milan!